Musica Innanzitutto due parole sullo storico processo Thyssen. Credo che sia un fatto importantissimo che ribadisse che il lavoro non è una merce e che ci sia una responsabilità anche dell'impresa su come si organizza e si tutela la salute e la sicurezza in fabbrica sia la vera novità di questa sentenza. Allo stesso tempo c'è anche il modo con cui si è costruita questa sentenza e quindi con le indagini, con il metodo che è stato utilizzato anche nuovo che credo indica un terreno per tutti diverso perché purtroppo accanto a questa positiva sentenza noi siamo in un paese dove si continua a morire sul lavoro. Nei giorni scorsi proprio al petrolchimico in Sardegna un altro giovane è morto e non siamo in presenza del fatto che calano il numero dei morti ogni anno per lavoro. Io mi auguro che questa sentenza sia anche per le imprese oltre che per i sindacati utilizzata per un radicale cambiamento e un'assunzione della tutela e della sicurezza come punto di progettazione del funzionamento delle imprese. Dinamiche sindacali appunto. I titoli parlano di un arretramento della FIOM, forse una sconfitta. Che cos'è? Un ricatto oppure veramente la linea CGL prende piede sui territori? No, non c'è alcun arretramento, lì dovremo andare a fare le assemblee a Melfi e discuteremo con i lavoratori. Lì c'è una posizione precisa della FIOM. Noi abbiamo chiesto alla FIOM dei chiarimenti su quell'accordo come condizione per firmare e cioè che sia una sperimentazione vera, che se non c'è accordo di tutti dal 1 gennaio del 2012 le pause rimangono in 40 minuti e che ci sia il fatto di poter davvero verificare se quel sistema nuovo di lavoro tutela o no la salute e la sicurezza. La FIAT ci ha risposto in modo negativo dicendo che non c'è nulla da chiarire, il testo è quella. Noi faremo le assemblee martedì e mercoledì con i lavoratori e diremo lì le nostre posizioni e chiederemo a loro un pronunciamento. E credo che come sempre avviene nel rapporto con i lavoratori troveremo la soluzione per arrivare a tutelarli e a non firmare un accordo che detto dalla FIAT vuole invece ridurre le pause e non sperimentare un bel niente. Quindi non li lascerete vincere insomma? Ma non c'è vittorio o perdite. Chi decide sono le lavoratrici e i lavoratori e quindi in quella sede diremo quella che è la posizione con cui la FIOM e i delegati tutti assieme abbiamo deciso nei giorni scorsi e esprimono il loro punto di vista su quell'accordo. Nessuno nella FIOM vuole rinunciare i dieci minuti o vuole peggiorare le condizioni di lavoro. Quindi come sempre avvenuto discuteremo. Dopodiché noi siamo un'organizzazione democratica e trasparente rispetto ad altri e siccome ci sono delegati che sono stati eletti dai lavoratori è giusto che abbiano la possibilità anche di dire quello che pensano. Quello che è importante è che alla fine ci sia una sintesi che si costruisse nel rapporto con i lavoratori avendo il consenso delle lavoratrici e dei lavoratori.